La squadra tutta messa lì in linea, pronta al lavoro. Dario, facci sentire le loro voci. Ci siamo, ci siamo. Eccoci qui in compagnia di tutto quello dello staff, meccanici, struttura frenante, così come anche i cosiddetti addetti al Cric. E io parto proprio dal meccanico, perché la parte meccanica del Fercolo è fondamentale. Fondamentale perché è una parte che serve soprattutto alle manovre, quindi in questo caso ogni anno ripristinarla, riportarla a un'efficienza totale è fondamentale. Quali le novità di quest'anno e che cosa abbiamo attenzionato? Ma ogni anno si fa sempre la stessa meccanica, diciamo, si controlla le gomme, le ruote in che stato sono, se sono da cambiare oppure no, poi controlla tutta la frenatura, viene rifatta tutti gli anni, viene controllata tutta la parte meccanica, che si fa una volta all'anno, quindi il tempo ce l'abbiamo, non occupiamo spese né niente. Viene tutta ricontrollata tutta, viene pulita, le ruote, le boccole, perché queste qua hanno pure la ralla che serve per girare il Fercolo a 90 gradi, 100 gradi, possiamo girare sempre con la ralla a terra, tramite i miei colleghi che sono azionati, sono delle vite senza fine, chiamati, che si vanno ad alzare il Fercolo per girare delle traverse. Perché ricordiamo sempre che comunque il Fercolo non riesce a fare delle manovre oltre l'angolo retto, quindi 90 gradi, al massimo riusciamo a inclinare il Fercolo all'interno quella che potrebbe essere un'inclinazione massima di 30, 35, 40 gradi al massimo. E proprio gli addetti al Cric sono fondamentali perché la ralla, quindi in questo caso questa struttura che poi solleva una massa di tonnellate, perché sappiamo bene che il nostro Fercolo in questo caso rappresenta tantissime tonnellate, soprattutto poi a pieno carico con cera, con il busto del liquiario, con all'interno anche lo scrigno, quindi è importante, è importante che gli addetti al Cric siano anche veloci. Sappiate che molta parte della processione è determinata anche dalla velocità delle manovre, però ogni anno noi ci mettiamo l'animo e non c'è mai stanchezza, nonostante si sta proprio sul pezzo, come dice in questi casi, per oltre 48 ore. Certo, noi siamo sotto, aspettiamo l'attesa del Capomastro che suona, che frena, in modo tale che dà i comandi per frenare e al momento che ci chiama, alziamo tutti quattro i Cricchisti, io e altri miei colleghi, con l'ordine del Capomastro, alziamo, il Fercolo viene girato sempre all'ordine del Capomastro, al momento che finisce l'operazione del mettere Sant'Agata nella retta via, sentiamo di nuovo e ci posizioniamo sotto a Sedecce aspettando sempre gli ordini del Capomastro. Siamo sotto con la speranza che tutto sempre procede bene, tutto continua sempre in ottima festa e con i cittadini che vanno avanti. Siete sotto, mi permetto anche di dire che voi comunque mi godete poca festa. Sì, bene o male sì, ma se dobbiamo uscire e prendere un po' d'aria la prendiamo tranquillamente, ma non lasciamo perché stare con Sant'Agata è una cosa bellissima, quindi bene o male ti passano un giorno, due giorni, quello che siano ti passo. Facciamo fatica perché è pesante alzare come poco fa, beh hai detto tu che il Fercolo è pesante, con Sant'Agata, lo Sprigno, la Cera, le persone, però il problema è che non lo senti perché lo fai di cuore, i miei tre colleghi che io mi presento, mi chiamo Russo Sebastiano, poi c'è Lorenzo Franceschini, Lorenzo Sanfilippo, Pinuzio Franceschini e Pippo Cucinotta. Poi abbiamo i due frenatori che è il signor Consoli. Frenatori, frenatori, proprio sui frenatori io mi attenziono un attimo perché sui frenatori è importante, è importante, sicurezza innanzitutto, non si può dare mai nulla per scontato, ricognizione anno dopo anno, anche perché sappiamo che poi dopo gli ultimi anni l'impianto frenante è stato modificato, è stato così realizzato, potremmo dire quasi a norma e noi lo andiamo a revisionare anno dopo anno. È efficiente, quindi siamo tranquilli, possiamo uscire in totale sicurezza. Senza ombra di dubbio, poi il fatto di essere controllato anno per anno è una cosa che già diventa di routine, poi c'è la nostra efficienza e dobbiamo stare svegli H24 per poter capire che il capomastro, tutti i campanelli, i colori che manda con l'impuso di sopra, bisogna stare svegli per poter frenare tranquillamente. Per chi sta proprio all'impianto frenante, qual è il momento più delicato e quello più emozionante? Salita dei Cappuccini, quella là, salita di San Giuliano, è tutto emozionante, però quelli là sono i due punti clou dove senti veramente la festa e il flusso di un'altra che c'è di gente, ti fa sentire proprio, ti fa stare con una trenina un pochettino forte comunque. Prima di partire con la salita, capita di magari inneggiare una preghiera? Sì, senso ombra di dubbio, poi penso che siamo abbastanza protetti, stare là sotto H24, credo che siamo abbastanza protetti, la tocchiamo con le mani nostre. Grazie, grazie. Abbiamo per giunta di Ferco dotato un freno di emergenza che viene attivato dal capovara tramite elettrico, che viene attivato da un bussante di emergenza che tiene sopra il capovara. Sicurezza, sicurezza totale, innanzitutto una festa in totale sicurezza e in questo caso a me piace augurare un buon lavoro a tutti i presenti. Sì, volevi dire? Sì, ti volevo ricordare anche, oltre al Presidente delle festività catene, noi abbiamo dei coordinatori che, insomma, tra Salvo Motta e il signor Pippo Brondini, che sono i nostri coordinatori che vanno avanti con la festa di Sant'Anna. E noi li ringraziamo, li ringraziamo per il lavoro svolto e soprattutto so che ancora ci sono giorni dove avete molto da fare all'interno di quello che è la struttura del Fercolo, nelle parti meccaniche e nell'impianto frenante. Io ringrazio a questo punto tutti coloro che ci stanno seguendo da studio, se non ci sono altre domande, Umberto, io rimando a voi.